Attivo presso il Parco Fluviale Testene è il muretto solidale per gli amici a quattro zampe, chi può mette e chi non apprende. L'iniziativa parte dal cittadino agropolese Gerardo Scotti impegnato nella riqualificazione e gestione del Parco Fluviale Testene ad Agropoli. L'idea nasce dall'esigenza di donare cibo per animali a chi è in difficoltà. Il cibo viene recuperato da aziende e negozi del territorio che lo mettono a disposizione. C'è necessità di cibo per una colonia filina che in questo momento è un po' sprovvista. Lo fa sapere Gerardo Scotti che fa un appello sui social ai cittadini o aziende del territorio a donare per chi ne ha la possibilità. Continua intanto l'attività di monitoraggio e riqualificazione presso il Parco Fluviale del Testene. Nei giorni scorsi infatti sono state installate anche delle fototrappole per monitorare la presenza della lontra, animale protetto e simbolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.